Il laboratorio dei lunedì, quelli successivi, come pure l'esame, saranno basati su WebStorm, che è lo strumento che avevo già menzionato nelle lezioni precedenti. Lo scorso anno utilizzavamo un altro strumento che si chiama Aptana, che però è molto vecchio e non aggiornato, WebStorm è sicuramente migliore come strumento. Lo troverete installato lunedì, incrociando le dita, perché oggi sono andato a verificare con i tecnici, il server su cui era installato è raggiungibile. Quindi, incrociando le dita e sperando nei lavori serali di qualcuno, lunedì sarà tutto pronto e funzionante. Oltre ad averlo in laboratorio, il mio consiglio è di provare a installarlo anche voi sui vostri PC. C'è una versione di prova, ma in quanto studenti, voi avete diritto a una licenza gratuita. Quindi, quello che potete fare è scaricarvi il software, poi andare sul sito di JetBrains WebStorm e richiedere una licenza gratuita. In realtà, la licenza gratuita che viene data non è solo per WebStorm, ma è per tutti gli altri strumenti di sviluppo della JetBrains. A noi interessa solo questo in questo corso, ma gli altri sono comunque strumenti di buon livello. Come faremo a iniziare i laboratori? Ma per l'esame il meccanismo funzionerà in maniera tale e quale. Tutto il codice di partenza, testo compreso, si trova su un repository subversion, che è uno strumento per il controllo delle versioni. Quello che voi dovete fare, quando avviate il vostro laboratorio, dopo aver fatto partire WebStorm, è di fare un'operazione di checkout from version control. Gli strumenti di controllo delle versioni sono molti. Git, CVS, a noi interessa subversion. Scegliendo subversion vi viene mostrata una finestra, come questa. La prima volta sarà vuota. che contiene l'elenco dei repository da cui, o su cui, andare a fare, a recuperare e poi salvare il vostro codice. L'indirizzo che voi dovete inserire è questo, http.op.polito.it slash svn slash viqlabs slash master. Se non c'è, fate più e ve lo scrivete qua. Ehi, non lo faccio perché io ce l'ho già inserito. Una volta che l'avete inserito, selezionate e espandete. Vedete che qua mi chiede già una password. In realtà non dovrebbe, qui, per visualizzarlo soltanto, non dovrebbe chiedermi la password. Allora, la metto. Scusate, la password me la chiede perché io mi sono dimenticato di attivare il wifi, quindi non c'è connessione di rete. Scusate. Allora, rifaccio. Ecco. Mi chiedeva la password perché non riceveva scedere e pensava che fosse per un problema di autenticazione. Allora, quello che trovate qua è, al momento, la soluzione del laboratorio scorso, quella che abbiamo visto assieme, e il prossimo laboratorio. Compariranno man mano tutte le altre versioni. Per cui, iniziamo dalla soluzione del laboratorio della volta scorsa. Quello che dovete fare è fare un checkout. Vi chiede dove andare a mettere la soluzione. selezionate una cartella che volete sul vostro file system. Ricordatevi che se lavorate sui computer del laboratorio, mettete lì dentro la vostra cartella di documenti, perché se cercate di metterlo in qualche altra posizione stramba, probabilmente non avete i permessi per scrivere. Quindi, selezionate la vostra cartella di documenti e inserite lì dentro. Quindi, va bene questa cartella. A questo punto vi dà due opzioni per fare il checkout. Il checkout è l'operazione di copia della versione che è presente sul repository sul disco locale. La prima opzione è quella di andare a scrivere nella cartella che avete selezionato. La seconda opzione, che ragionamente è meglio, è quella di andare a scegliere di creare una sottocartella che ha lo stesso nome del progetto che stiamo estraendo. Quindi, dentro questa cartella test, mi crea una sottocartella lab4 underscore sol. A questo punto. Ok, vi chiede il formato del repository subversion, 1.8 dovrebbe funzionare. Aspettate che non leggo. Ecco, mi chiede se voglio aprire la cartella in cui ho appena copiato il progetto. Sì. E adesso, sull'altra finestra ovviamente, apre il progetto. Qui vi chiede se volete aggiungere alcuni file al controllo versioni. Vedete che sono punto idea, eccetera. Sono file che si crea webstone per mantenere le informazioni su, ad esempio, quali file avete aperto, se avreste fatto qualche impostazione, eccetera. Quello che potete fare è dire di no a tutti questi file. Se dite di sì, questi file verranno poi, eventualmente, ricopiati indietro sul repository. A questo punto il progetto è aperto, quindi se io faccio clic qua su project, trovo lab4 e le sottocartelle che avevamo visto la volta scorsa. Quindi, per andare a vedere nel dettaglio la soluzione della volta scorsa, questa è la procedura da seguire. Per i vostri esercizi, la procedura varia leggermente. Perché? Perché una volta che avete fatto i vostri esercizi, quello che vorreste fare è salvarli in maniera permanente. Non soltanto sul vostro disco, ma anche sul repository. A questo punto, una volta che avete salvato i suoi repository, quello è un server disponibile e accessibile anche da casa. Quindi, ad esempio, lo fate in laboratorio, lo salvate, poi andate a casa, su un computer diverso, fate il check out del progetto e vi ritrovate l'ultima versione che avete salvato. Per quanto riguarda l'esame, il check out tendenzialmente lo farò io. Alla fine dell'esame andrò a vedere quello che avete salvato sul repository e lo valuterò. L'operazione per andare a salvare le modifiche che avete fatto sul repository è molto semplice. Vedete che c'è questa freccia verso l'alto, verso VCS. VCS sta per Version Control System. Se io vado a selezionare questa, mi dice che non c'è niente da salvare. L'operazione di salvare le modifiche locali sul server remoto si chiama commit. Non avendo fatto nessuna modifica, non c'è niente da salvare. Per cui, che so, se io vado ad aprire qui e aggiungo un paio di spazi, questo per farvi vedere cosa succede, e faccio di nuovo clic su VCS, tenete conto che questo pulsante equivale ad andare a selezionare il menu VCS e poi Commit Changes. Ok? Quindi lo potete fare col pulsantino oppure col menu. Se io vado qui, quello che mi viene fatto vedere è l'elenco di tutti i file che sono cambiati. E qui sotto, che cosa è cambiato? Vedete che mi evidenzia che qui questa riga bianca si è trasformata in una riga bianca come prima più altre due che sono evidenziate in questo verdino. Quindi, tutte le modifiche che avete fatto ce le avete evidenziate chiaramente. Quello che dovete fare prima di fare l'operazione di Commit è andare in quella casella di testo a scrivere un commento. Persone finale, ho aggiunto questo, ho modificato quello. Ok? Dopodiché andate qui sotto e scrivete Commit. Questo vi permette di fare l'operazione di salvataggio. non la faccio perché ovviamente la modifica è assolutamente irrilevante. Ovviamente, se questa operazione la facessimo tutti e tutti avessero il permesso di andare a fare il Commit, quello che esce è un grosso pasticcio. Per cui, per il laboratorio, non utilizzerete questo repository su cui io andrò a mettere la versione di partenza e le soluzioni, ma ne utilizzerete uno vostro personale su cui io, di volta in volta, andrò a caricare una copia del progetto di partenza. Tra domani e lunedì mattina vi arriverà un'email con l'url del repository, nome utente e passo. Il repository lì è vostro, quindi potete anche fare tutte le vostre prove, ok? è a vostra disposizione. Potete salvare, assicuratevi di averlo fatto almeno una volta, perché è la stessa procedura che seguirete all'esame. L'unica differenza è che il repository da utilizzare all'esame vi verrà comunicato sul momento. Quindi, andate in laboratorio, se il repository non c'è già lo inserite con il più e fate l'operazione di checkout. Lavorate, fate un primo esercizio, a quel punto fate un commit. L'idea è che una volta che avete fatto un po' di lavoro, che è autocontenuto, potete fare un commit. ricordatevi di fare un commit alla fine, in modo che l'ultima versione sia salvata lì in maniera permanente. Se volete sfruttare il repository per i vostri scopi, quello che potete anche fare è andare, se create un vostro nuovo progetto, a selezionarlo e fare version control system, import into version control, e poi selezionare import into subversion. quello vi crea una nuova cartella nel repository con il vostro codice. Fino all'inizio dell'anno prossimo questi repository ci saranno. Quindi, se volete salvare i vostri repository, i vostri progetti personali, va bene. Evitate materiale protetto da copyright o indecente. Ok? Per il resto è lì. Per cui, l'operazione da fare per iniziare il lavoro del laboratorio è questa. Una volta che avete il progetto, ci sarà dentro il testo, lo leggete esattamente come fate normalmente. Ci sarà il testo qua dentro, quindi potete aprirlo, quindi nel caso di un file HTML, potete aprirlo con il browser che preferite e lo visualizzate. per aiutereI, Io lo studio